Il porto di Porto Torres, gli interventi di cui ha bisogno e di servizi di trasporto ad esso collegati. Sono stati questi i temi principali dell'incontro che si è svolto questa mattina nella cittadina turritana, convocato dall'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro e che ha coinvolto anche autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, consorzio industriale di Sassari, Arste e ATP. Si parla soprattutto oggi della riorganizzazione dell'accoglienza turistica nello scalo di Porto Torres. Metteremo al centro la stazione marittima, la necessità di dargli una gestione efficace, di mettere attorno tutti quelli che sono i servizi di trasporto che rendano l'accoglienza del turista a Porto Torres all'altezza della tradizione portuale della città. Credo che prima della stagione estiva Porto Torres potrà contare su un efficace sistema di accoglienza al turista e un altrettanto efficace scambio di intermodalità all'interno della struttura portuale. Cerchiamo insieme all'assessore Moro di razionalizzare al meglio quelle che sono le esigenze per i trasporti da e per Porto Torres, cercare di rimettere in sesto un porto che comincia oramai da Truppiani ad arrancare. Ci sono già una cinquantina di milioni di euro che devono essere messi a terra. Non è un problema esclusivamente di risorse, è un problema di razionalizzare gli interventi che sono da fare in modo tale che non ci siano sovrapposizioni, ma soprattutto che abbiano coerenza rispetto a esigenze territoriali dell'intero territorio sardo.